e qua risalendo ci facciamo di nuovo gli scalini dove invece di fare la pietraia a salire ce ne scendiamo per più molto in pratica ci dobbiamo rifare gli scalini ok no perché va a finire che qua siamo arrivati alla discesa eh lo so qua siamo arrivati alla scena e ci possiamo fare però tutto lo stradone a scendere che a te non piace eh no ma bu ma diceva è anche finita poi eh vai vai dai ec ch MA dai dai dora che el bati strale no no un 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 qui c'est all'est Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.